C'è del male in casa Bethesda e quel male si chiama The Evil Within 2. In questo nuovo capitolo vestiremo ancora i panni di Sebastian Castellanos, nuovamente invischiato in un immaginario horror ad altissimo tasso di tensione. La nuova avventura di Sebastian vede Lily, l'adorata figlia che credeva irrimediabilmente perduta, ancora in vita, ma intrappolata nelle grinfie di un'entità demoniaca. Il desiderio di riabbracciare la bambina porterà Castellanos in una spirale di violenza e ferocia, esattamente come avveniva nel prequel. E' qui che prende il via la demo che abbiamo provato nello stand allestito da Bethesda in occasione della Gamescom 2017. Poco dopo l'inizio del gioco, troviamo il protagonista intento di intrufolarsi in una sorta di magazzino abbandonato, avvoltola alla totale oscurità e rischiarato soltanto dalla flebile luce della torcia in dotazione. Lo stile è quello classico dell'horror nipponico, con una serie di script ben implementati e qualche scelta stilistica piuttosto indovinata. Il mondo di gioco è un luogo dove è il male a prendere il sopravvento, in cui la logica lascia spazio alla manifestazione del terrore in ogni sua forma, anche in quella più scontata. Qualche jump scare abbastanza prevedibile, difatti, scandisce le prime fasi della progressione che ci vede fuggire a gambe levate da un abominevole mostro armato di sega rotante al posto degli arti inferiori. Superata questa sequenza su binari, dalla quale è difficile farsi coinvolgere a pieno, The Evil Within 2 apre le porte a una formula ludica a metà tra la libertà d'esplorazione e la linearità imposta dalla sceneggiatura. Giunto nella cittadina di Union, Sebastian incontra le stesse creature che lo hanno tormentato durante gli eventi del Beacon Hospital. L'approccio stealth è da preferire, afferrando i nemici alle spalle ed eliminandoli singolarmente senza attirare attenzioni indesiderate, ma in caso di necessità si può fare affidamento alla pistola, che offre però munizioni assai limitate. In qualità di buon survival, le risorse saranno poche, ecco perché serve esplorare con circospezione ogni angolo, distruggendo tutte le casse di legno e cercando ogni minima un fratto polveroso per raccattare quante più componenti possibili, in modo tale da costruire gli indispensabili gadget, tra cui la classica siringa con cui rigenerare la salute. Analizzando gli scenari, inoltre, potrete rinvenire anche alcuni materiali grezzi che, se combinati tra loro, permettono di perfezionare le armi in dotazione, come la potenza di fuoco o l'ampiezza del caricatore. Sconfiggendo un avversario, invece, dal suo cadavere in putrefazione è possibile raccogliere una sostanza verdastra, una valuta con la quale incrementare le skill di Sebastian attraverso il sistema di upgrade visto nel primo episodio. Pertanto, uccidere le creature invece di sgattaiolare non visti sotto al loro naso diviene un'attività più pericolosa, ma allo stesso tempo più remunerativa. In bilico tra sogno, illusione e realtà, il percorso ludico narrativo di The Evil Within 2 si muove sullo stesso contorto sentiero del capostipite. A cambiare, principalmente, è la maggiore ampiezza delle aree esplorabili, che in alcune sequenze si allontanano dalle soffocanti barriere della linearità per inscenare un orrore quasi agorafobico, nel quale la minaccia può onidarsi in ogni incrocio ben celato alla vista. The Evil Within 2 sfrutta una libertà di movimento che nel primo episodio era solo accennata. Un quartiere della cittadina sarà infatti quasi del tutto visitabile a piacimento, a patto di compiere una piccola e potenzialmente letale deviazione dall'obiettivo principale. Quando però giunge il momento per la storia di prendere il sopravvento sul gameplay, il tutto rientra nei confini vincolati alla narrazione, dove gli script si sovrappongono alle esigenze ludiche. Le ambientazioni sfruttano un mondo ancora più cupo, ruvido e grezzo rispetto al precedente capitolo, supportato da un art design che si dimostra pienamente coerente con gli incubi che popolano la meta del protagonista. A fronte di una gestione quasi superlativa delle luci e delle ombre, il motore grafico del gioco non lascia a bocca aperta. Pur limando gli aspetti negativi ed accuendo quelli positivi del primo episodio, l'opera mostra ancora il fianco a una generale sporcizia visiva, da un lato in linea con lo stile malato del prodotto, ma dall'altro sintomatico di un lavoro ancora bisognoso di una fase di affinamento. Abbiamo avuto la fortuna di provare The Evil Within 2 su PC, con risoluzione 4K e con un framerate a 60fps. Nonostante i settaggi fossero impostati al massimo, il titolo ha arrancato in un paio di occasioni, benché i ritmi fossero tutt'altro che esaltanti e l'effettistica non certo vigorosa. Un forte pop in alcuni dei modelli poligonali, infine, irruvidisce la qualità di un reparto artistico comunque di buon livello, che speriamo possa mantenersi sempre coerente, coeso e accattivante per tutta la durata dell'avventura, che potremo apprezzare a partire da ottobre.